Seconda edizione di Winding & Living, quest'anno le novità. Un salone gigante che riguarda il mondo del matrimonio, 4.000 metri quadri espositivi, quasi 100 stand per coloro che devono realizzare il matrimonio perfetto e quindi dall'abito da sposa, al catering, alla lista nozzi, al fioraio. Ma anche Living, coloro che devono arredare casa e rendere il proprio nido perfetto. Non solo stand, Wedding & Living è una tre giorni intensissima di corsi. Di giochi, di concorsi, la possibilità di diventare modelli sposi, quindi indossare davvero un vero abito da sposa e da sposo e venire qui ad Etrapolis per partecipare alle selezioni in galleria e poi sfilare con gli abiti dei sogni. Madrina, ad eccezione quest'anno, la grande stilista di fama internazionale, Alessandra Rinauda, il volto di l'abito dei sogni di real time, che sarà a disposizione di tutte le coppie siciliane, proprio per dare i preziosi consigli che renderanno davvero unico il giorno del matrimonio. Quindi impossibile mancare qui ad Etrapolis, venerdì, sabato e domenica, dal 3 al 5 ottobre. Un evento di grande valenza, oltre 25 mila sono stati visitatori dell'anno scorso, che rappresenta un dato eccezionale per la prima edizione. Sono convinto che quest'anno aumenterà anche nel numero, data la qualità degli espositori, dato il numero degli espositori, dati anche gli eventi collaterali che vengono puntualmente organizzati con grande professionalità e con grande eleganza. Ecco perché da parte delle istituzioni c'è un grande applauso che deve essere rivolto a Expo, a Barbara Mirabella e a Trafiere, perché attraverso l'evento fieristico si permette al territorio di trarre un giovamento significativo in un contesto di gravissima crisi economica recessiva e quindi tutto ciò assume una valenza ancora più importante.